Fiori, regali e una bella torta. Nella casa albergo per anziani famiglia Nova a Fano è stata festeggiata un'altra centenaria. Maria Giulietti, nata nella frazione di Farnetto di Montelabatte il 27 marzo 1923 e residente a Gabice Mare. Insieme a lei questa mattina i familiari, gli operatori e il direttore della struttura che la ospita. Inevitabile chiedere alla signora Maria quale sia il segreto, secondo lei, della longevità. Mi far bene a tutti. Eh sì, perché far del bene a tutti, come dice la centenaria, produce benessere e felicità. Maria, rimasta vedova 44 anni fa, è sempre stata circondata dall'affetto dei suoi cari a tre figlie, sei nipoti e tre pronipoti. Che mamma è stata la signora Maria? Tosta, abbastanza. Si è fatta sempre intendere, nella sua vita. Che cosa ha fatto nella sua vita? Casalinga, ma è stata una donna che seguiva il marito, il mio babbo, quando andava a pescare e vendeva il pesce al mercato, al mercato cattolica. Come descriverebbe sua mamma? Una donna grintosa, che ha sempre fatto di tutto per i figli, per accontentarli e perché fossero dei bravi ragazzi, delle brave ragazze, siamo tre femmine per cui... E ci è riuscita? Sì, ci è riuscita. Siamo brave. Come si trova in questa struttura? Molto, molto bene. Direi che non solo lei si trova bene, ma tutti quanti, perché sono veramente tanto, tanto curati, seguiti e fanno tante belle cose. Questo lo devo dire e lo ripeterò sempre all'infinito e i ragazzi lo sanno. Altra giornata di festa, Famiglia Nova, tra l'altro non è il primo centenario che si festeggia nel 2023. Assolutamente, è una bella giornata di festa, per noi è il secondo centenario del 2023 e viviamo una situazione particolarmente felice e insolita in cui attualmente accogliamo quattro ultracentenari. Sicuramente è un dato che ci fa riflettere, ci fa sicuramente molto piacere e penso che indichi anche il fatto che la qualità di vita che riusciamo a donare a queste persone poi si rispecchia in questi risultati bellissimi. Prossima settimana, un altro compleanno? Prossima settimana, un altro compleanno, ne festeggiamo 102. Invece la signora Maria da quanto tempo è qua? Maria è con noi da cinque anni ed è una figura che è sempre stata molto presente nelle attività, nella vita di Famiglia Nova, una persona molto gagliarda, amante dello spazio aperto, del bel tempo, tanto è vero che oggi abbiamo avuto la possibilità di festeggiare all'aperto e siamo sicuri che l'avrà apprezzato. Vice-sindaco, anche lei oggi non è voluta mancare a questo importante appuntamento per una sua concittadina? Sì, certo, con piacere da parte di tutta l'amministrazione comunale di Gabice Mare sono qui per portare ovviamente gli auguri di tutta la città, la signora Giulietti Maria che è una nostra concittadina, anche se da qualche anno è trasferita qui a Fano, però ancora è una nostra cittadina residente, quindi ci teniamo particolarmente a essere qui in questa giornata di festa insieme a tutta la sua famiglia. È un'occasione particolare anche per noi perché non capita ovviamente tutti i giorni di festeggiare i centenari e quindi cerchiamo di esserci con impegno e volontà perché è un bel momento di festa per tutti.